Buongiorno, da Italia 2.4, Victor Cabec Sierra, vinco quasi sempre, e quasi, chi mi frega? Oggi è attivazione Pota, Park on the Air. Sono già all'interno del perimetro Pota, quindi potrei fare stazione qui o giù in fondo al paese, dove ho parcheggiato il mezzo, ma dopo tanti anni volevo tornare in questa zona, perché 30 anni fa ci ho fatto la cartografia già cimentologica o redatto, e devo dire che anche se sono passati 30 anni la salita è più o meno uguale. Allora, mi metto lì, arrivo lì nella zona di sella, e poi iniziamo. E poi magari adesso sul percorso, due parole di geologia per chi interessa. A chi non interessa, schippi, ma so che Riccardo gradisce, e adesso faccio. Allora, dunque, por bene, sono sulla sella che separa Monte Cavallino, di qua, e Monte Carignone. E' una giornata meravigliosa. Mi spiace per Greta, ma lo godo molto questo caldo. Allora, non mi sembra giusto tenermi tutto questo panorama solo per me, eh? Quindi, vabbè, lì siete contro il sole, ma di là c'è la Liguria, e là in fondo si intravede il mare. E di qui, invece, abbiamo le sorgenti del chiumetaro. GPS 17 minuti. Forse l'ho abituato male col mio passo, ma vabbè. Proseguiamo da Monte Cavallino. Oh, un'impronta, anche recente. Allora, sono in cima a Monte Cavallino. All'interno della zona Pota, è il parco del Monte Penna, Monte Trevine. Proprio da Monte Cavallino parte il crinale, Monte Cavallino, Monte Carignone, Monte Trevine, Monte Penna, Monte Tomarlo, Monte Maggiorasca, e via. Panoramicamente è stupenda. Adesso vi faccio un 360 gradi. Allora, sfortunatamente qui siamo a controsole, ma di là si dovrebbe intravedere il Mar Ligure. Poi ci spostiamo di qui, no? Quello è il passo del Centro Croci. E quindi quello laggiù è Monte Gottero, a confine con la Toscana. Di là, in direzione Parma, Pianello Padana, e lassù la Vettacola. La gente è qui sotto la Valle del Taro, con i paesi di Pianazzo, e a scendere giù Santa Maria del Taro, però non si intravede. Alla stazione cerco di farla qua, in questa stazione, o magari anche lì. Vediamo. Alla stazione cerco di farla qua, in questa stazione, o magari anche la Valle del Taro, con i paesi di Pianazzo, e a scendere giù la Valle del Taro, con i paesi di Pianazzo, e a scendere giù la Valle del Taro. Alla stazione cerco di farla qua, in questa stazione, o anche la Valle del Taro, con i paesi di Pianazzo, e a scendere giù la Valle del Taro. Alla stazione cerco di farla qua, in questa stazione, o anche la Valle del Taro, con i paesi di Pianazzo, e a scendere giù la Valle del Taro, con i paesi di Pianazzo, e a scendere giù la Valle del Taro. Roger, carissimo, 5-9 più 30, è per te, 5-9 più 30, ti passo la referenza, Italia 15-46, ripeto, Italia 15-46, referenza Pota. Condizioni di lavoro, 5-106, e ovviamente, antenna di Polo, a lei il cambio. USL, ovviamente, adesso me lo devi ripetere, Italia 15-46, mi confermi, interrogativo? Affermativo, affermativo, Italia 15-46, Pota, eh, non Sota, Pota, Papa. Buonasera, vi ho messo a logo, seguiamo la referenza, ed è sempre un piacere collegarti, sei il numero uno, e non c'è altro da raggiungere. Ciao, caro, buona attivazione anche per te. Va bene, ti ringrazio, sentivo un po' aria di certamente, ma comunque è lo stesso, ciao, buona giornata. Ciao, caro, grazie per il Park2Park, vado avanti, QRZ, chiamala via, uniform 2, India 15-46. Ah, ma io mi dovevo fare lo spot, è bellinato. Allora, è vero, ma mi devo rimettere gli occhiali, ma... 7163, allora, più spot, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, referenza, i 15-46, i Ratto, 15-46, 46, ok. Z4VQS frequenza no non iniziare il frischietto è no e non è possibile frequenza in uso frequenza in uso la frequenza in uso 7159 ok frequenza in uso frequenza in uso Sicupota 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 Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP Sicupota col buongiorno Italia Zulu 5 Giulietta Lima Foxtrot 59 referenza Italia 1546 Roger ti ringrazio perché ho appena appena iniziato grazie ancora 3 Victor Alfa Delta Italia 3 Victor Alfa Delta 59 QSL Sì buongiorno benedì sentito 59 anche per te grazie buon divertimento buon fine settimana grazie buon fine settimana anche a te ciao K4 Imola Domodossola Firenze Italia Kilo 4 Imola Domodossola Firenze 59 più 10 QSL Anche per te nella rossa 59 ciao grazie ciao 73 buon fine settimana Italia 4 Radio Hotel Papa Italia 4 Radio Hotel Papa 59 Fondoscala 59 più 30 a te il cabbio ciao 73 spero che abbiate giù nella bassa una bella giornata come questa che ho qua ciao 73 Sì 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 è bel tempo che qua eh bello bello ciao grazie India Quebec 5 Mike Sierra Oh India Quebec 5 Mike Sierra complimenti per la modulazione eh 59 più 20 per lei ciao Claudio Italia Uniform Zero Oscar Tango Foxtrot Roger Italia Uniform Zero Oscar Tango Foxtrot corretto ah beh per te ti do un 59 più 30 e 59 più 30 referenza pota Italia 15 46 con il buon fine settimana a te il cambio K vi ringrazio 73 puol fine settimana ciao grazie ciao Italia Kilo 6 Eco Romeo Charlie Italia Kilo 6 Eco Romeo Charlie 59 QSL 5SL Alessandro 5959 buona giornata ciao 73 QRZ Italia Whisky Zero Hotel Kilo Italia Whisky Zero Hotel Kilo solo due lettere mi confermi? Sì ciao ciao Alessandro qui Italia Whisky Zero Andrea Roma 655 Roma QSL QSL Andrea 59 più 20 per te eh 59 più 20 lettura reale dallo strumento per quello che vale lo strumento cinese e ti passo la referenza OTA 15 46 Italia 15 46 grazie Florida 5 Victor Mike Novembrello Florida 5 Victor Mike November 5 9 QSL Ciao buongiorno grazie 59 anche per te 73 alla prossima buon weekend 73 buon weekend anche a te ciao Ciao un abbraccio Italy Zulu 5 Tango Quebec Whisky Allora Italy Zulu 5 Tango Quebec Messico corretto? No almeno più Italy Zulu 5 Tango Quebec Whisky eh 59 eh scusami per l'errore referenza FOTA Italia 15 46 QSL 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 ehm ma non ho capito bene la referenza ah certamente Italia 15 46 ripeto Italia 15 46 QSL ciao 73 grazie per aver risposto alla mia chiamata ciao oh Italia chilo 1 GPG 59 QSL ciao guarda lettura reale dallo strumento 9 più 40 ciao 73 Italia Zulu 5 Mike Juliet Oscar allora Italia Zulu 5 Mike completami il call scusami Mike Juliet Oscar Milano di Juventus a 30 QSL QSL Italia Zulu 5 Mike Juliet Oscar 5 9 5 9 QSL ok grazie avanti Italia chilo 2 Giuliettango Sierra ok grazie avanti Italia chilo 2 Giuliettango Sierra sì K2 Giuliettango Sierra buongiorno 5 9 5 9 più 20 referenza FOTA Italia 15 46 QSL ciao 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 73 QRZ i Z8 delta Francia Oscar 5 9 QSL i Z8 delta Francia Oscar 5 9 QSL ciao 73 grazie i Z8 delta Francia Oscar 5 9 QSL thank you my friend reference FOTA Italy 1546 Italy 1546 QSL 73 my friend good weekend bye bye chilo 7 x ray napoli FOTA Italia chilo 7 x ray napoli FOTROT 5 9 QSL 5 9 grazie della referenza FOTA buona attività ciao ciao 73 eh no qui in cima a Monte Cavallino trovare un'isola è un po' difficile Italia Whisky 0 Hotel Lima Echo Italia Whisky 0 Hotel Lima Echo 5 9 QSL buongiorno male 5 6 6 7 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 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 9 buona attivazione alla prossima Roger 59 più 30 reali eh grazie ciao ciao Sì 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 o italia tango 9 charlie alfa radio car 59 qsl certamente referenza pota italia 15 46 italia 15 46 qsl ciao 73 italia chilo 4 mike golf giuliette 59 qsl ciao 73 india uniform 8 november chilo whisky qsl e roger 59 59 più 10 qsl ciao 73 italia uniform 5 india charlie radio 59 più 20 qsl ciao 73 q r z eco alfa 1 alfa over roger eco alfa 1 alfa foxtrot 5 9 5 9 qsl roger thank you my friend bye bye 73 sierra in the call over oscar chilo oscar chilo over roger oscar chilo 8 x ray roger 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 oscar chilo 5 9 qsl delta chilo 8 x ray roger oscar chilo r 4x5, 4x5, 45 from Delta Kilo 1 Romeo Sierra, please repeat my report again. Your report is 5x9, 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 Quesel. 55, 5x5, Roger. 5x9 your report, 5x9, very good signal, 5x9, Quesel. Roger, Roger, thank you very much, Alessandro. 5x9, thank you for the park activation and have a nice weekend. Mede Grazie, 73, Delta Kilo 1 Romeo Sierra. Roger, my friend, bye bye, 73, good weekend. India, 5x5, Foxtrot, Lima, India. India, 5x5, Foxtrot, Lima, India. 5x9, più 30, più 40. Sì, ok, ok, Alessandro, va bene. Sono un amico di Nicola, pilota e papa, che l'ho educato a queste cose. La cena è il K5, Foxtrot, Lima, India. Il viaggio fatto è Vittor, Quesel Sierra. 5x5 per te, 5x5 per te, ok? Roger, ti ringrazio, ti passo la referenza a Foxtrot, se non l'hai scritta. Oh, Cristo, mi tocca girare anche parecchie pagine. Italia, 15, 46, QSL. Ok, sì, ok, grazie, ok. Sì, buon cofino. D'accordo, ciao, per ora, buon divertimento. Ciao, è bella. Radio X-Ray Papa, over. Roger, Roger, Sierra, Papa 9, radio X-Ray Papa, 5x5, 5x5, your report, Quesel? Ok, Quesel, Super Papa 9, radio X-Ray Papa, 5x5, 6x5, Quesel, 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 my friend. And thank you, thank you for the short contact, good weekend, bye bye. India Uniform 3, India Oscar Uniform, Quesel. India Uniform 3, India Oscar Uniform, per te, 5x9, Alessandro, IZ4, Vittor, Quebec Sierra, Ponta, Italia 15, 46, confermi tutto? Affermativo, affermativo, Italia 15, 46, 5x9 più 20, per te, Quesel, 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 Grazie mille, grazie mille, buona attività, buona attività, buona attività, ciao, le prossime. Ciao, 73, c'è caldissimo oggi. Italia, Zelanda 1, Giuliette, Chilo, Hotel. Roger, Italia, Zelanda 1, Giuliette, Chilo, Hotel, 5x9, Quesel. Grazie, Roger. 5x9, grazie per te, molto bene, prima torna a Pellice, provincia di Torino, grazie per la resta del Tappoto, buona giornata, 73, ciao. Ciao, 73. Italia, Whisky 5, Charlie, Torino, Europa. Italia, Whisky 5, Charlie, Torino, Europa. 5x9, Qesel. Qesel, 5x9, 10. Ti saluto, buoni collegamenti, buona giornata. Ciao, 73, grazie, buon fine settimana. India, uniforme 1, Oscar, Yankee, Romeo. India, uniforme 1, Oscar, Yankee, Romeo, 5x9. Ok, grazie, sono Luigi Novada, 5x9 anche per te, 73, buon divertimento. Ciao, 73, grazie, buon fine settimana. Italia, Whisky 2, Lima, Mike, Giuliet, 5x9. Buongiorno, 5x9 anche per te, ottimo segnale, buon proseguimento, divertimento, ciao, grazie. Ciao, 73, QRZ. 9, Alfa 1, Charlie, Charlie. 9, Alfa 1, Charlie, Charlie, 5x9, Qesel. Sì, buongiorno, 5x9, grazie, buona giornata. Ciao, 73, buon weekend. Ciao. Foxtrot, India, Tango, Qesel. Ecco, Alfa 1, Foxtrot, India, Charlie, ecco, Alfa 1, Foxtrot, India, Charlie. Roger, ecco, Alfa 1, Foxtrot, India, Charlie, 5x9, Qesel. Ecco, Alfa 1, Foxtrot, India, Charlie, 5x9, Qesel. Ok, questa è la camera di Sireno, scopo, se si spiega la via. Grazie a te, ciao, buon fine settimana! Affermativo, con il G106, questo è lei? Roger, roger, sì, vinco quasi sempre. Benissimo, e antenna se posso chiedere, sei con una internet o un'epicale? Quasi mi offendo, io uso solo ed esclusivamente dipoli accordati, HI, a te il cambio! Ok, ok, va bene, dai, giusto per avere una traccia completa delle tue condizioni. Oh, grazie a te, non c'è problema. Guarda, preferisco il dipolo perché almeno c'hai la banda dei 40, dei 20 metri, non devi portare accordatore, non stai a tribolare troppo nell'impianto della stazione. Grazie ancora e ancora buon fine settimana, ciao! Ciao, ciao! Allora, signori, ultime chiamate da Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, attivazione POTA. Referenza Italia 1546, attivazione POTA da Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile QRP. Allora, India, Sierra 0, Foxtrot, completami il colchio, sentito portatile. Foxtrot, Yenchi, Eco, QSL, QSL, Italia, Sierra 0, Foxtrot, Yenchi, Eco, 5-5, 5-5, 5-5, QSL. E' peccato, c'è un po' di QSB, c'è un po' di QSB, ma ti ho copiato perfettamente, ho copiato perfettamente. Grazie e buon fine settimana. Buon fine settimana anche a te, 73 e buona radio. Ciao, grazie. Allora, IW1 Radio India Mike, 5-9. IW1 Radio India Mike, 5-9. IW5, 7-5, 8-5, 8-7, Levante, dite la referenza. Certamente, allora, Parco del Penna, Italia 1546, QSL. 1546, ciao, buona attività. Ciao, 73. Florida 4, Florida Tango, 4, Florida, 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 Reference, reference spot, Italy 1546, Italy 1546, qui c'è? Bye bye, my friend, ciao! India Whiskey 2, Lima, Sierra, Oscar, avanti pure! Ciao Alessandro, ben sentito, 5,7 per te, 5,7 per te, ti ascolto abbastanza bene, dai, un po' di QRM in banda ma ti ascolto bene, dai! Ancora te, India 04, Victor, qua da Sierra, India Whiskey 2, Lima, Sierra, Oscar. Allora, guarda, ti passo un 5,9 più 20 reali, eh, arrivi splendidamente, si sta alzando un po' il rumore, c'era Gianluca che mi chiedeva di passare in 20 ma ormai la batteria è quasi finita, mi dispiace, che provasse in 40, ok, a te il cambio! K, QSL, eh sì, in effetti un po' un casino qua, eh, infatti sto cercando di filtrare come posso con la radio ma anche prima ho collegato anche Luca che è in quota lui, e c'è abbastanza casino, c'è abbastanza QRM e anch'io faccio fatica da casa con la radio abbastanza, abbastanza performante, a comunque a filtrare un po' e tirare fuori dei segnali stessi, perché appunto c'è molto, molto QRM, stanzino da diecidenti, il rumore di fondo che rompono, rompono le scatole, dai! Ancora te Ale, India 04, Victor, qua da Sierra, Italia Whiskey 2, Lima, Sierra, Oscar. Roger, Italia Whiskey 2, Lima, Sierra, Oscar. Io la ringrazio, guardi! Italia Uniform 6, Queen, Lima, Giuliette. Roger, Italia Uniform 6, Queen, Lima, Giuliette. 5,9, QSL. Ok, QSL, 5,7 il tuo segnale. Ciao, buona continuazione. Ciao, grazie, 73. Sierra 5, 2, Charlie, Alpha. Sierra 5, 2, Charlie, Alpha. Roger? Sierra 5, 2, Charlie, Alpha. Sierra 5, 2, Charlie, Alpha. Roger? Here, 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 here. 5, and 5. 5, and 5. This is Sierra 5, 2, Charlie, Alpha. QSL, QSL, Sierra 5, 2, Charlie, Alpha. 5, 9, your report. 5, 9, your report. Thank you, my friend. Bye, bye. Bye, bye. allora italia chilo 2 lima ecco yankee corretto allora roger roger io ti sento proprio a pelo di qrm ti ho tirato ti ho tirato fuori per lima ecco yankee ti do un 59 perché sei in mezzo al qrm qsl 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 ti ringrazio 59 per il log qsl italia unimos uniform 6 oscar lima mike 59 ciao 73 ok signori 73 grazie a tutti e buon fine settimana da italia zulu 4 victor quebec sierra portatele qrp attivazione pota italia 15 46 grazie ancora qrt ciao alia 73 buon weekend ciao 73 ciao 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 ciao